Perché è tutto pronto per il debutto interno stagionale per la Valsa Group Modena Volley impegnata domenica alle 18 al Palapanini contro la matricola Grottazzolina esordiente assoluta in Superlega. Sarà anche un ritorno questa volta con la maglia da titolare al Palapanini per Paul Buchegger abbiamo fatto cose buone a Piacenza ma ora serve più concretezza per portare a casa i primi tre punti dice l'opposto giallo-blu. Cosa ha voluto dire tornare con la maglia di Modena questa volta essendo il titolare come opposto? Sì è stata una bella esperienza, è bello di tornare con la maglia di Modena, sono molto contento di essere qua e secondo me abbiamo una bella stagione davanti di noi. Cosa c'è da migliorare dal vostro lato di campo rispetto a quanto visto a Piacenza? Allora secondo me abbiamo già fatto vedere qualche belle cose, un pallavolo fino a un certo punto del set molto bene e poi ora ci tocca lavorare su questi fini del set per chiudere questi set a portare quelli set a casa diciamo e lì dobbiamo lavorare a essere più chiari in queste situazioni. Sarà una bella battaglia secondo me contro Cortazzolina, hanno delle belle giocatori, sarà difficile però secondo me siamo pronti per questa sfida e lo vogliamo portare a questi primi tre punti. Hai parlato dei tre punti, è chiaro che si pensa al presente però dato che dopo ci saranno Perugia e Trento che non sono proprio due squadre simpatiche, meglio farli questi tre punti. Esatto, ora è la prima partita dove dici vabbè le dobbiamo fare, poi Perugia e Trento sarà difficile però abbiamo mostrato che possiamo lottare anche con le big come Piacenza, settimana per settimana ci vogliamo migliorare, allora è tutto possibile, siamo pronti secondo me, abbiamo una bella squadra e siamo pronti per qualsiasi avversario. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.